e un ringraziamento a tutti quanti voi che avete deciso di venire a perdere un sabato pomeriggio per parlare di cose che è risato da un parecchio tempo, ma poi vedrete che non si tratta assolutamente di una merda di te. Io sul libro ho già parlato un po' di saltarello, io vorrei un po' rifarvi a quello che è un po' il titolo del convegno, cioè 1799, l'insorgenza in terra di lavoro è occupato in sessa nel regno di Napoli. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che cos'è un'insorgenza, che cosa si vuol dire con questo termine. È una sollevazione popolare, in parole molto molto semplici, che cerca di sottuire alle carenze, alle deficienze dell'esercizio regolare in Corboglio che, ball diretto, ball guidato, si era un po' sciocco per le persone, quindi aveva lanciato capolino ai giacobili che non aveva occupato Roma, procedevano con i generali sciampionetti, giocatore generale, molto con gli attributi, con i soldini, verso il regno di Napoli. Noi ci troviamo a sessa. Diceva bene Claudio Santarelli prima, sessa è una città, non so se è una felice questa espressione, odice, appena la vediamo oggi, potrebbe essere una doppia negativa, ma è stata la doppia del vero, tutti i punti di rischio. Se voi pensate all'importanza strategica per il tuo quadro di sesso, che era collocato praticamente sulla regina di Napoli, però era collocato con ogni appia, per la strada che era da Roma, le strade consolate, famose, dove erano da Roma che da Roma che stavano accanto e poi lì verso l'Apoli, verso tutto, il Regno. E quindi era un sito molto importante dal punto di vista stradecchio. Ed era così importante, ed anche questa è una cosa di cui noi dovremmo prima o poi cominciare a prendere condizioni, ed era così importante che nel 1796, quindi siamo tre anni nel 1796, riferichendo a qualche informatore, che non era un fessacchiotto che tutti quanti cercano di ridificere, capì l'importanza strategico militare di una di un sesso. E che cosa fa? Lo integra al Regno di Napoli, lo toglie al Feudatario, è meglio dire che lo manca, però lo toglie al Feudatario e lo integra al Regno di Napoli. E la stessa cosa succede sempre nel 1796, al Ducano di Sore e Viaccio, e la vado a vedere, la vediamo a vedere. Anche lì, Re Ferditano capisce l'importanza strategica di questo Ducano di Sore e Viaccio, che guarda caso era collocato su un'altra via di accesso di Re Ferditano, che era cosetta consolare, oltre come vedo la via Casinitta, che da sopra portava a San Germano la mia Cassiglia e poi da lì a campo e veniva discorretta. E perché lo fa? Perché questi territori, il Ducano di Sore e Viaccio e il Ducano di Sensa, erano troppo importanti strategicamente per lasciarli alle mani di alcune famiglie, pur sempre donne, ma che dobbiamo risentare sicuramente delle difficoltà dal punto di vista dell'organizzazione militare, dell'esilograzione delle nuove e quant'altro. Ma perché ho detto questo? Perché si avrà fatto nel 1796 la famosa lente immersiva della fruta un dà, in cui tanto si parla e si lova e viene usandato a 360 gradi, arriva a 10 anni più tardi, con Giuseppe vuole la parte dei di Daboli e se lo fate andate in 2 anni più tardi, quindi noi, io dico noi perché Claudio è sessato, io sono del tuo caso di sopra, quindi se così possiamo dire, abbiamo il privilegio di esserci liberati, come si vuol dire, dal gioco della feudalità, di sciarmi prima di quello che accadde in tutti i regi d'Italia. Ah no, perché il straordinario erano degli stati a parte Daboli, delle famiglie, il regio, la gamba, però si è impossessata di questo servizio. Ma anche di questo, io lo sento spesso parlare, di questa cosa che viene 10 anni prima, e l'importante strategia di questi due territori è constatata proprio dalle vicende che arrivano di lì a breve. Quando, da po' le ore, decide di invadere il Ducato di Roma, in via Cianzio Dio, e la guerra è all'eporto per la benedità, perché sia il Ducato di Sessa, che sia il Ducato di Soria e Pianco, praticamente a confini. Io so da qui a Portello, a quanto ricordo, in Saranta, tra il Pianco di Roma, a Portello in confini. Sì, non va a Mariglione di Cicca, da Pianco di San Bianco. Vabbè, non va a te in Maurizio. No, non di meno. Non credo che sia una domanda. Siamo su 75 litro. Vabbè, comunque, non siamo molto lontani. E quindi è chiaro che bisogna avere una sorta di fuggimento, dove dislocare. Io credo che sia un 5 litro. Vabbè, comunque, al di là dei metri, diciamo così, però era evidente che va, come dire, l'importanza strategica di questi due territori. E l'importanza strategica di questi due territori è dimostrata proprio dal fatto che quando comincia a spirare i poli in guerra con la panica, per il piano 4, lo stato maggiore, l'esercito e la poletà, decino di slocare a loro tutte in due posizioni, su Cari Piano e a Sala. Ed è la piana di Cassino, per fargli vedere. Quindi, formando una, vuol dire, una partiera che andava dal padre, da Gaeta, Gaeta, Sessa, San Germano, Sopra. Questa era la viglia di sbarramento che il regitante aveva predisposto per fermare i ragazzi. Per quel che riguarda Sessa, nella località Santa Maria la Piazza, vengono dislocati 5 reggimenti di fantenia e 6 squadroni di calaterie. Adesso stiamo parlando qui da Sessa, in certo, tra la fila 96 e l'inizio 96. Poi che succede? Succede che la guerra non si fa più per il momento. Purtroppo è qui e non posso scontare la specie. Lo lascio squillare? Sì, non so. Posso vedere chi è? Sì, non so. 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 Scusate, ragazzi. Aspetta, però, lo bravo, si può... Ma dici, non prendendole. Non so. Solo il suo. Scusate, non lo spettano per questo. No, guarda, perché manchimista. Guarda, guarda. No, ma questa, siccome è l'ultima generazione, mi dà da per tutti. È capace. Ma quello, per il momento, non scoppia, perché a Parichi, ho tratto a Parichi, il 10 di ottobre 1796, c'è la pace, fratti, per in verità, un'inferma. Allora è vero, però, i soldati continuarono ad arrestare sia a San Germano e sia a Sessa. Allora è vero che qualche mese d'oggi scadevano la violenza in Italia, probabilmente di Tifo, dove vogliono parecchie decine di migliaia di soldati. Si calcolano addirittura 18 mila volte. Ed è proprio questa sciatura che costringe il re Ferdinando a far ritirare lei. Ma, come era facile prevedere, la pace d'Oralou. Chardonnay invade il Ducano e il Robardo nel febbraio del 1998 e salgura il vecchio imbalato del Dio VI, lo deconde e lo manda in esilio in Francia dove morirà qualche mese d'oggi. Ed ecco che il ricordo sia a Camigliano che si assessa e si assopra le truppe in volo. Però, con lo stesso tempo, il re Ferdinando che a ripeto non era quella macchietta che è stato dipinto, capisce che c'è qualcosa che non vale il suo esempio. Ed ecco perché emana un decreto in cui autorizza la costruzione delle cosiddette truppe a massa. Chi sono le truppe a massa? Sono dei contingenti di volontari che non rientravano nella leva e quindi non potevano far parte dell'esercito rena. È vero che l'esercito di Championet era molto inferiore dal punto di vista numerico. Si stima che dai 15 dei 18.000 uomini ma era molto ben guidato. Lo stesso Championet era un prode generale che fareva molto bene muovere le sue poche cose. Quindi ogni comune fu chiamato ad organizzare la sua massa ed anche se è sicuro che viene chiamato a questo comune. È vero che il governatore che era Giulio Beatrice che non era di Sessa ma era di un giuico insolto di Contragune si mette in modo per costruire questa truppa bassa e crea un corpo a cui viene dato il nome di Cacciatori di Inturdenzi. Quindi a Sessa viene Beatrice il governatore crea un corpo di volontari di soldati volontari che chiama Cacciatori di Inturdenzi. la cosa caro Presidente la cosa caro Presidente e quindi la cosa buffa di questa situazione è quello che vogliamo indeterminare. Quindi anche indeterminare quanto parte di questo di questo corpo comunale. Le cose poi dopo sapete come si evolvano che Ferdinando passa in confine Ferdinando in Borgone arriva con irrisoria facilità a Roma alla fine di novembre 1798 conquista Roma che era stata conquista più che entra a Roma che era stata ormai appartolata dall'esercito di Sampiometri però subito dopo le cose secche romani Sampiometri va al contrattacco l'esercito borgonico con Salpossi si dà ad una precipitosa fuga sia in direzione del ritorale che in quella interna e praticamente i terribili Giacobini arrivano quasi senza loro poterete a chiaramente procedendo verso il regio di Lattoli ho già detto prima che si seguono due percorsi il percorso interno quindi Sola San Germano Carqua e il percorso di regio coschiero attraverso per raggi Formia Gaeta e anzi proprio non c'era Boma traietto e quindi Sessa Carqua e compagnia in due gennaio nel 1799 le truppe di arubile del generale Kermermart giungono la stessa due gennaio giungono la stessa e a proporre del vero vengono accolti in maniera positiva dalla popolazione locale a del vero che si partiscono della città senza sparare senza sparare via che ho colpo di liceo dopodiché che per me da lasciarmi un presente di liceo